Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità, avviati i lavori per il miglioramento della sicurezza all'incrocio tra via Nomentana e via Zara. Quello tra via Nomentana e via Zara fa parte di un primo lotto di lavori in corrispondenza di incroci tra i più pericolosi già individuati dal Campidoglio in città. Complessivamente saranno 175 gli interventi di cui 75 entro il giubileo. Il cantiere tra via Nomentana e via Zara coinvolgerà anche Corso Trieste, via Alessandria e via Spallanzani. Previsti interventi per migliorare la viabilità, aumentare la sicurezza dei pedoni e impedire la sosta d'intralcio.